In verità vi dico che non è cosa più insensata che tapparsi le orecchie per non dimenticare ciò che si è udito, o chiudere gli occhi e non voler più vedere perché si è convinti che non vi sia nulla di più bello di ciò che si è visto, o credere l'importante ritrovare nell'oceano la lacrima che un lontano giorno scendendo lungo il volto cadde nel fiume. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.